Offri questa preghiera al cuore divino di Gesù per ottenere la sua protezione. Se ogni giorno offrissimo a Gesù una parte del nostro cuore, se non tutto il nostro cuore, ci sentiremmo decisamente meglio. Con questa breve ma bellissima e potentissima preghiera non facciamo altro, infatti, che donarci a Lui. Metterci completamente nelle sue mani e nel suo cuore, che è sicuramente colmo di amore per ciascuno di noi. Questa è una preghiera che si recita durante la Messa e che probabilmente voi tutti conoscete, ma se la recitaste anche quando siete a casa, al mattino, pomeriggio e sera, allora sarebbe ancora meglio e otterreste più protezione dal Figlio di Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unioni al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio Padre. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unioni al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio Padre. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unioni al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio Padre. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.